Ciao carissimi, siccome sui nostri mainstream, sul nostro segmento dei media non passano le notizie riguardo alle distruzioni incredibili, al massacro che subiscono palestinesi in questi giorni dalle forze armate di Israele, da noi sembra che questa guerra ha perso un pezzo, quando io osservo cosa passa in tv, quando io guardo anche i giornali, i nostri giornalisti fanno attenzione a mostrare la reale, vera dimensione di questo genocidio che ormai si sta compiendo, molti la chiamano guerra, per me non è guerra, ormai si tratta chiaramente di un genocidio, è un genocidio che è stato a mio avviso preparato, secondo me non è una cosa improvvisa, io penso che Netanyahu e la parte destra estrema militarista di Israele ha preparato molto bene questa azione, e noi stiamo vedendo oggi l'esito di tutto quello che la società civile internazionale ha permesso di fare, di esistere, noi vediamo il peggio del peggio dell'espressione di un militarismo estremista, io ogni giorno sul mio canale privato telegram pubblico le notizie, tantissimi video che meglio di mille parole vi possono spiegare ciò che sta avvenendo a Gaza, ciò che sta avvenendo in Cisgiordania, ciò che sta avvenendo con il popolo palestinese che viene letteralmente massacrato dalle forze armate di Israele, ad esempio di recente io ho pubblicato un video della striscia di Gaza, del quartiere di Eraballah, da dove arrivano alcuni video ripresi delle persone sotto bombardamento, mentre vengono bombardate, una cosa atroce, terribile, perché si tratta intanto di persone pacifiche, si vedono i bambini per strada, si vedono bambini di fronte a un palazzo, un secondo a primo che questo palazzo viene polverizzato, ci sono filmati molto duri, io altro giorno ho parlato con un mio conoscente, un giornalista italiano, con quale anche ho lavorato insieme per un periodo quando io ancora credevo che il giornalismo italiano è un giornalismo onesto, adesso io sento alcuni conoscenti, ovviamente non posso non criticarle, anche parlando con loro, io a questo mio conoscente gli ho chiesto, scusa, ma con tutto quell'orrore che sta capitando, io sul mio canale Telegram sto pubblicando tantissimi video, che tra l'altro sono disponibilissimi, perché la parte araba, la parte palestinese mi aiuta molto a ricevere queste informazioni, non c'è nessun problema, ti metti in contatto con loro e loro mandano questi filmati che sono tutti reali, io prima di pubblicarli li esamino tutti, cerco di capire se magari un filmato vero o falso sono tutti veri, comunque non c'è bisogno di fare filmati falsi, perché in una situazione di un disastro come questo, la realtà è talmente grave e talmente pesante, che già per come si rappresenta non ha bisogno di nessun tipo di esaltazione, e io a questo giornalista gli ho chiesto, scusa, ma perché voi nella vostra redazione non affrontate questa situazione, questo grave aspetto della guerra, perché non è un problema, loro hanno parlato recentemente del fatto che Israele ha detto questo, ha detto l'altro, si sono incontrati, ha detto ma voi dovete mostrare a tutto il mondo il disastro, il genocidio che sta facendo Israele a Gaza, ogni giorno muoiono le persone, e lui mi ha detto, Nicolai ma tu non sai che c'è l'etica, tu hai lavorato anche tu con noi, tu ricordi che esiste una cosa che si chiama l'etica, noi non possiamo pubblicare certi filmati dove ci sono i morti, dove ci sono feriti, perché sono le immagini forti, gli ho detto scusa caro, io mi ricordo benissimo i video del massacro di Gheddafi, l'avete sparato sulle prime pagine dei giornali, era in tutti i telegiornali, ed erano i video dove si vedeva un uomo massacrato da una folla inferocita, un uomo massacrato da una folla inferocita, quando hanno impiccato Saddam, cosa avete fatto? non l'avete mostrato il suo cadavere, la sua morte, non l'avete messa su prime pagine? Allora gli ho detto scusate ma che cos'è questa etica che è così selettiva? Cioè un'etica a doppio senso? Quando si parla di mettere in mostra l'esito del crimine di una macchina militarista israeliana e di mostrare dei bambini massacrati palestinesi, voi non lo fate perché siete vincolati dall'etica. Quando invece c'è da mettere in prima pagina un massacro feroce di una persona che rappresenta il potere contrario ai vostri padroni oligarchi anglosassoni, come ad esempio lui era Gheddafi, allora voi non avete nessuna etica, allora è giusto così. Io ieri a questo mio amico, non abbiamo litigato, però le ho detto queste cose, lui è rimasto un attimo in silenzio, mi ha detto eh ma tu sei troppo estremista, ho detto guarda sarò estremista, forse anche in questi giorni sono molto provato da nuove immagini di guerra che entrano nella mia vita, nella mia mente, che io speravo di lasciare dietro le spalle nelle mie esperienze precedenti. E la guerra di nuovo sta entrando nella mia vita ed è una cosa terribile, però io non riesco a capire perché, per quale motivo, voi giornalisti non date abbastanza attenzione a queste notizie, perché voi non parlate della cosa più urgente, più importante, del genocidio del popolo palestinese. Tutto il resto avverrà dopo, ma fermate questo massacro, fate qualcosa, no niente, nessuno parla, nessuno vuole approfondire. Io comunque sul mio canale Telegram pubblico tutti i video, pubblico tutte le testimonianze, ed è impressionante il livello di ormai dell'odio, dell'odio, cari amici, che non è un odio improvviso, spontaneo, un odio razionale, che arriva da Israele. C'è odio anche in Palestina, certo, c'è odio anche tra quelli di Hamas, perché persone che non odiano non avrebbero potuto entrare in un paese come loro hanno fatto e massacrare la gente a destra e a manca. Certo, dopo 75 anni di vita, segregati, privati della loro terra, dei loro diritti, trattati peggio degli animali, gli uomini fanno anche questo, perché spinti dall'odio. Però l'odio di Hamas io lo vedo come un odio più selvatico, più naturale, perché tu hai tenuto le persone in una situazione estrema. Io non sto adesso giustificando Hamas, assolutamente no. Io sto spiegando dal punto di vista di logica quello che è il loro stato. E a me sembra, la mia impressione personale, che il loro odio ha le fondamenta su modo in cui sono stati trattati. Mentre dall'altro canto io vedo un odio che è diventato una cultura razionale. Io ho pubblicato altro giorno video di questa signorina, chiamiamola così, israeliana, che prendeva in giro le madri che in questi giorni hanno perso i bambini. Io pubblico tantissimi video ogni giorno sul mio canale privato Telegram, dove ci sono le scene veramente atroci, dei crimini, del genocidio del popolo palestinese. E io vedo queste situazioni, e poi vedo questa signorina che fa dei video dove prende in giro sentimenti di persone che sono stati massacrati, privati di ogni diritto, privati dei loro cari, del loro futuro. È una cosa terribile. Ieri ho pubblicato un video che io tra l'altro vi invito tutti a vedere e ad ascoltare queste parole, perché per capire quella parte di sionismo israeliano che ha generato questo terribile massacro, voi dovete vedere anche e anche i volti che rappresentano questo movimento. Io non parlo adesso, nelle mie parole non c'è una critica verso il popolo ebraico. Io so che ci sono tantissimi ebrei che hanno diverse opinioni, ci sono tantissimi ebrei che non approvano assolutamente le azioni di Hamas, ma allo stesso tempo non condividono il massacro dei palestinesi, non condividono la decisione del governo israeliano di massacrare un popolo, di fare un genocidio, perché questo sta accadendo adesso, un genocidio. Comunque c'è questo rabbino che io ho pubblicato la sua dichiarazione, un rabbino ebreo che tra l'altro legge anche Torah e cerca di spiegare in maniera razionale perché vanno sterminati tutti i palestinesi, tutti, persino i bambini. Io non sto scherzando, è una cosa reale. Io questo filmato non lo metto qua su YouTube perché io so benissimo che dopo un'ora arrivano le segnalazioni, YouTube mi blocca il canale, blocca il mio video e succederanno i casini. Oggi purtroppo l'unico social dove si può ancora pubblicare certo materiale legato alla realtà oggettiva e non strumentalizzato da varie propagande è Telegram. e quindi io ho pubblicato questo video sul mio canale Telegram per questo vi invito di abbonarvi al mio canale abbonamento troverete nella descrizione di questo video approfondite e guardate come un rabbino un uomo religioso di comunità ebraica apertamente in un video spiega che vengono che devono essere massacrati uccisi tutti i palestinesi compresi i bambini lui vi spiega perché ed è talmente folle che in questa sua teoria di genocidio lui anche riporta le dichiarazioni di Torah del libro sacro degli ebrei lui spiega che anche i bambini vanno eliminati fisicamente senza pietà lui lo lo ripete per diverse volte questa frase senza alcuna pietà senza pietà lui dice quest'uomo è terribile io quando ieri ho visto questa immagine questo video quando ho guardato il volto di quell'uomo ho guardato nei suoi occhi ho sentito il timbro della sua voce con quale sicurezza con quale razionalità lui spiega questo concetto io ho capito che l'inferno è veramente qua è già qua satana è già arrivato sulla terra si è già impadronito della terra non è come diceva Dante si trova da qualche parte bisogna no assolutamente non bisogna andare da nessuna parte è qua l'inferno e quando voi ascolterete queste parole e magari scorrerete un po' di immagini sulla mia pagina e vedrete i video di una città distrutta devastata dai bombardamenti bambini morti massacrati feriti io ieri ho pubblicato una un'immagine straziante di una madre sul pavimento dell'ospedale di Gaza e il figlio ferito anche lui insanguinato le sta tenendo la flebo perché la madre si trova in condizioni peggiori rispetto al figlio e il bambino tiene alla mamma il flebo perché quelli hanno esaurito tutto non hanno nemmeno questi apparecchi per agganciare la flebo e la donna è sdraiata sul pavimento ricoperta di sangue cosa è terribile immagini di un genocidio e ci sono i rappresentanti della comunità religiosa ebraica come questo rabbino che spiegano con totale serenità razionalità con un tono di voce molto pacato che palestinesi devono essere sterminati tutti anche i bambini fino all'ultimo senza alcuna pietà e tutto questo sta avvenendo in totale silenzio delle autorità internazionali occidentali sono solo i paesi i rappresentanti le autorità dei paesi di mondo libero del mondo multipolare che sono espressi liberamente riguardo la palestina da noi blocco occidentale da noi tutti i politici fanno quello che vogliono gli Stati Uniti d'America e Gran Bretagna tutti i nostri si sono schierati subito dalla parte dell'Israele indifferenza per fortuna di gran parte dei popoli occidentali che stanno manifestando in questi giorni il loro sostegno al popolo palestinese però amici il livello di il livello dell'odio è spaventoso è spaventoso che questo odio ripeto ormai è razionale ormai è un sistema è un sistema io vi invito di abbonarvi al mio canale telegram perché qua su youtube non posso dire tutto non posso farvi vedere tutto però per comprendere la enormità di di questo di questa tragedia di questo crimine vi assicuro per comprenderlo per vedere con i vostri occhi che cos'è un vero genocidio oggi abbonatevi al mio canale guardate le immagini che io condivido ogni giorno perché è fondamentale sapere che queste cose succedono non possiamo continuare a vivere facendo finta che non accade niente perché proprio dai momenti come questi si creano le situazioni nella storia dove se vengono prese le decisioni se si decide di voltare lo sguardo da un'altra parte si va verso una direzione sbagliata perché ci si uccide l'essere umano dentro se stessi e poi ci si scopre che si vive in una società dove non c'è più posto per la natura umana amici per l'ennesima volta vi rinnovo l'invito di abbonarvi al mio canale potete farlo attraverso il link che troverete nella descrizione di questo video se volete sostenermi io vi invito di iscrivervi al mio canale youtube condividere i miei video commentare i miei video con i vostri amici inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama la guerra e l'odio si tratta di un libro che racconta le origini della guerra in Ucraina se vi interessa questo argomento leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene